Allora sta così succedendo una cosa su questo fatto, sono molto emozionato perché sto per presentare un artista molto molto particolare, ne avete visti tanti stasera, ne vedrete ancora tanti, però quello che sto per introdurre adesso è il mio compagno di viaggio sul palcoscenico attuale, cioè la persona con cui condivido gli spettacoli, le feste locali, le sfilate, tutti gli spettacoli che Graziano Mini fa, non può non avere al suo fianco il maestro Claudio Malachini! Cosa mi dici, mi dici mai, cosa mi dici, cosa mi dici, cosa mi dici, mi dici mai, mamma, cosa mi dici, dici mai? Io lo io, vedi? Cioè, scusi, ha capito che stacchetto l'ho messo? Io voglio io! Perché ha messo questo stacchetto? Perché il maestro ha una dote, oltre a quella di cantare, sentirete che controcacchi di voce che ha, ha una dote di imitare. Tempo fa è stato portato al successo con l'imitazione del Papa, Papa Vuitila che adesso non c'è più, nello sparire il Papa ha deciso di far sparire anche la sua imitazione, è subentrata quella di Topo Ciccio. Quando stiamo cantando agli spettacoli ogni tanto lui comincia a cantare, tutto figo, tutto impostato, la gente, a un certo punto cambia la voce e mi fa Topo Ciccio. Ma durante le canzoni serie, ci puoi fare veramente un esempio del tipo, ho preso la chitarra, chi canta il mio cuore, amore, 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 è quello che c'è a dire, ma tu mi capirai, ma tu mi capirai. Ciao a tutti. Ci sono tante cose che facciamo all'interno del nostro spettacolo, io e il maestro, il nostro spettacolo che abbiamo creato ormai da tanti anni, che portiamo in giro, portiamo sotto i palchi di Brescia e fuori provincia, all'interno del quale la gente si diverte. Oltre che ascoltare della buona musica si diverte e vede delle cose un po' strane. Abbiamo deciso di prendere il pezzo, in realtà ho scelto io e lui sta soltanto eseguendo gli ordini. Il pezzo forse più di impatto visivo che c'è all'interno del nostro spettacolo ed è questo. Prima di far partire la base, maestro, devo dire una cosa. Noi ci mettiamo questi cappelli, soprattutto queste giacche, ma soprattutto ci mettiamo questi occhiali e cominciamo a parlare in inglese. Ci avete riconosciuto, non? Siamo le? Gemelle Kessler. Che Kessler è con una voce così. Cominciamo a parlare in inglese. Ok, this is my brother. Oh, this is my sister. You are cool at home. Ok, please. Don't go. State qua. Ma questo sto cercando di fare una riscosa se... Somewhere. Over the rainbow. E bippa, palola. Palababu. Chubus. Smakey one. Chubocchi. Chubocchi smakey one. Anche perché la monobocchi a me non mi piace. Abbiamo studiato in inglese al ceppo, scusate. Allora, questa canzone. Maestro, come mai questo giacco una volta si sarà o adesso si sarà o poi? Perché ti chiamano Sancho Panza? Ci lo dico io perché io sono la risposta italiana da Antonio Banderas. Antonio Bangeras. La risposta italiana da Al Pacino. Al Pacino. La risposta, Bresciola, a Raul Bova. Raul Bogia. Ecco, questa è una cagata che diciamo per prendere l'applauso se ce lo fate. Poi passiamo con il cappello, raccogliate. Anche adesso. No, maestro. La volta che abbiamo lanciato il cappello tra il pubblico, pensate, è tornato pieno di fazzoletti sporchi, un preservativo giusto, pannolini. 5 euro tutti da un centesimo. Ci siamo pagati l'autostrada per tornare a casa. Ringraziamo comunque. Il casellante però, ovviamente. La canzone che vi vogliamo fare è ascoltare questa. Because everybody needs somebody to love. Maestro. Buonasera, benvenuti. Ringraziamo a venire a Fred. Gaudiamo le mani per il blu strade. Vogliamo sentire nel tempo. So, 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 so. Questa sera ricordiamo il litido Francesco. E lo facciamo con le vostre mani. Su le mani. E anche la voce. Fuori la voce. E anche la voce. E anche la voce. E anche la voce. E anche la voce. I need somebody, everybody I need somebody to love Someone to love Send it to me Or she gets a kiss I need you, you, you 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 Yeah, 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 yeah Alright! Grazie 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 No, voglio che non posso la fare Allora Grazie Signore Prendiamo il piano Prendiamo gli animatori Animatori e gli animatori Premi innanzitutto per la Dani Tra la nostra Spagna e Carolina Scusate non andiamo d'accordo Avevo detto niente gnocca Sul barco quando salgo io Mi hai detto niente gnocca alta Io purtroppo sono alta C'era già io e non ho capito Perché c'era bisogno di questa nuova ragione Mi ha detto ragazzi ce la faccio All'ultimo minuto siamo riusciti Di inserirla E abbiamo A parte che sei ballata Come ho tutti visto il periodo Lei ha detto solo una canzone d'impatto E penso che non ci sia canzone migliore Per far sentire La splendida voce Della cantante Daniela Chioselli Grazie, grazie a tutti di essere qui Siamo arrivati a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti